allora cari amici buongiorno terzo brevissimo video sui fatti di bibbiano oggi è il 9 9 luglio e poche ore fa andrea carletti il sindaco del pd di bibbiano appunto agli arresti domiciliari ha avuto il buon gusto di ringraziare il zingaretti stesso e tutto il pd per il sostegno che ha avuto la solidarietà che ha avuto e di autosospendersi pensate un po autosospendersi dal partito quindi non è stato zingaretti al despellerlo ma è stato carletti andrea carletti che si autosospende generosamente dal partito già era dovuto intervenire poche ore prima il prefetto il prefetto per il prefetto per sospenderlo dalla carica di sindaco che lui evidentemente dai domiciliari voleva continuare ad esercitare davvero un bel esempio salutiamo zingaretti salutiamo il pool degli avvocati che lo stesso zingaretti ha messo in piedi per monitorare la rete per vedere cosa si dice di bello su bibbiano nel tentativo più o meno chiaro ed evidente di condizionare la pubblica opinione di spaventare chi volesse parlare di questo caso ma il tentativo chiaramente non riesce siamo in democrazia gli italiani non si lasceranno certo condizionare dal caro zingaretti e tantomeno dagli avvocati che lui ha messo in piedi quindi una bella pagina di attualità ripeto il prefetto finalmente sospende dal ruolo di sindaco Andrea Carletti sindaco del PD adesso possiamo dire ex sindaco praticamente del PD di Bibiano e zingaretti non lo ha espulso dal partito ma comunque abbiamo Carletti che se non altro si auto sospende una cosa veramente di rilievo grazie a tutti e arrivederci